Tra le iniziative della quarta edizione si è tenuto l'incontro dal titolo Il valore del dono in una economia di ispirazione francescana, anche in vista dell'evento Economio Francesco. È stata anche l'occasione per una testimonianza sull'economia carceraria con l'intervento della cooperativa Orto, incontro al quale ha partecipato anche il sindaco di Assisi.